Un imprenditore di Andria non avrebbe versato l'IVA per un valore complessivo di 280.000 euro. Per questo i finanzieri hanno sequestrato beni per equivalente finalizzato alla confisca nei confronti della società e del suo rappresentante legale. L'attività opera nel settore del confezionamento di camice e t-shirt. L'attività d'indagine, coordinata dalla procura di Trani, ha permesso di scoprire il mancato versamento dell'IVA per un valore complessivo superiore a 280.000 euro. Il sequestro preventivo è stato disposto, quale pretesa erariale, sulle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti e depositi bancari per un ammontare complessivo di 282.682,78 euro. Le preliminari attività di accertamento hanno permesso di individuare cospicue disponibilità finanziarie da sottoporre a sequestro preventivo per un valore pari alla concorrenza della somma non versata all'erario, spiegano gli inquirenti. Il mancato pagamento del tributo, oltre ad arrecare un rilevante danno nei confronti dello Stato, ha concretamente violato la libera concorrenza e il libero mercato, avvantaggiando indebitamente la società in danno alle imprese sane e rispettose delle regole. L'attività eseguita dalla Guardia di Finanza mira a rafforzare l'azione di contrasto ai contesti di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità a tutela del sistema economico sano, delle leggi di libera concorrenza e degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole che vengono danneggiati da tali comportamenti fraudolenti.